L'azienda Ravennate Studio T presenta Bootsy Space. Da tempo l'azienda è impegnata sul tema del benessere e stamattina ha presentato nella sua sede a Godo di Russi, in collaborazione con Venezia Home Design, la gamma di prodotti Bootsy Space. Innovative soluzioni di isolamento ed assorbimento acustico per tutti gli ambienti, uffici, casa, spazi pubblici, hotel, ristoranti e banche. Perché Studio T ha deciso di investire sul benessere? Studio T ha sempre la filosofia del benessere all'interno dell'azienda e del mondo ufficio e ha come voglia di far calare l'attenzione su quello che sono le varie possibilità di stare meglio dove ognuno di noi passa la maggior parte del tempo della sua vita. Quindi noi trascorriamo la nostra vita all'interno dell'azienda e cerchiamo magari di stare bene quando usciamo dalla porta. Quindi vogliamo attirare l'attenzione, cosa che già stiamo cercando di fare da diverso tempo, su quello che sono tutti gli elementi per stare bene all'interno del mondo del lavoro. Esatto. Investite sul benessere già da tempo e questa è l'occasione giusta? Questa è l'occasione giusta per presentare questa nuova linea di prodotti, quindi questa collaborazione con l'azienda Venezia Home Design che ha fatto una linea di elementi che possono essere collocati sia all'interno dell'azienda e dell'ufficio ma anche all'interno della casa. Oggi non ci sono più i confini netti e separati fra ufficio e casa, si parla sempre di, si dice anche ufficio liquido perché l'ufficio ha bisogno di essere mosso, spostato secondo degli spazi, degli ambienti, delle persone che cambiano. Quindi una serie di elementi flessibili che possono essere collocati in strutture già esistenti e che possono essere anche, possono richiamare quello che è un arredamento casa-ufficio. Allora, dei prodotti nuovi, innovativi, quali sono questi prodotti? Sono innovativi perché rispondono a tre concetti. Allora, prima che utilizzano un materiale completamente riciclato e deriva dalla bottiglie PET. Il secondo motivo è appunto perché utilizzando materiali riciclati salvaguardiamo l'ambiente. Terzo perché di questo materiale siamo riusciti a farne anche degli oggetti di design che quindi abbiniamo il benessere acustico ambientale, il riciclaggio di prodotti e quindi riduzione dei rifiuti, quindi ecologico. Terzo, abbiniamo anche un design. Quindi la composizione di questi tre prodotti fa sì che siano usciti i bussi space e quindi tutti i prodotti, che la famiglia dei prodotti che vanno anche da oggetti che si usano continuamente oltre che i pannelli divisori per assorbire negli ambienti di lavoro, le cabine come in questa che siamo seduti noi di relax, il puff e tutta una serie di oggetti alla cui fantasia può spaziare perché ci sono anche tutta una serie di rotoli, di pannelli che hanno anche il biadesivo e che possono avere un'applicazione praticamente infinita e che dipende solo dalla nostra immaginazione o del progettista. Quindi prodotti per il benessere acustico, di design quindi anche di gradevole aspetto, per che ambienti sono dedicati appunto questi prodotti? Gli ambienti a cui loro sono interessati, dedicati e che si possono applicare sono praticamente tutti. Diciamo che il problema acustico, cioè la fonte sonora che diventa disturbo per le persone che ci convivono dentro è molto più sentita negli ambienti pubblici, ristoranti, locali e gli ambienti di lavoro. Noi interveniamo in questa situazione con oggetti che non solo risolvono quel problema ma che anche hanno una caratteristica appunto di design e di colore che possono servire a cambiare un ambiente normale e tradizionale con poco intervento anche economico ma anche in maniera un po' friendly e spiritosa. Diceva prima comunque prodotti ecologici, al fine diciamo della sua vita questo prodotto può essere riciclato? Sì, questo praticamente può essere paragonato un po' al vetro nel senso che può essere continuamente riciclato quindi può ridiventare un prodotto per forno assorbente fino anche quasi a ridiventare una bottiglia attraverso ovviamente certi procedimenti e processi industriali. Come Studio T in futuro avete altri progetti? Sicuramente sì perché la nostra voglia è quella di continuare a parlare e a manifestare di quello che è il mondo del benessere all'interno del mondo dell'azienda. Siamo soci fondatori di un consorzio che è il consorzio dell'impresa multisensoriale e abbiamo in previsione il 25-26 di maggio di realizzare il Festival dei Sensi dove si parlerà dei sensi e si parlerà del benessere sempre persona e aziende nel mondo del lavoro e non solo. Quindi verranno toccati tutti i vari, l'udito, la vista, l'olfatto e sarà sicuramente un momento esperienziale per toccare con mano e vivere quello che sono le emozioni e le sensazioni trasportate all'interno del mondo ufficio e non solo. Andrea Ianni per Avena Web TV